buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video di questo canale dunque oggi porto alla vostra attenzione un programmino secondo me molto carino ora quante volte voi vi siete chiesti ma possiamo avere magari il colore dei nostri folder delle nostre cartelle diverse da avere il classico colore giallo di windows magari avere la possibilità internamente a quella directory di colorare alcune cartelle perché sono le cartelle più utilizzate magari ci vengono prima all'occhio e via dicendo e allora effettivamente visto che era una situazione che io che io pure un'esigenza che io pure avevo allora vi dico ma vi faccio anzi più che vi dico vi faccio vedere questo software che si chiama folder maker free software ragazzi come al solito totalmente gratuito che permette proprio vedete qui di avere un menu contestuale e avere le varie cartelle colorate proprio in questo modo adesso ragazzi noi andiamo a installare e andiamo a vedere come funziona allora da questo link qua che voi vedete potete scaricare il software quindi si va praticamente qua così eccolo qua e vi scaricate il softwareino che io già ho scaricato eccolo qua che io già ho qui ho già sul desktop quindi a questo punto leviamo questa cartella è scaricata ed è sicuro mi dice il mio io bit malware perfetto lui ha fatto un check e ci ha garantito la sicurezza di questo software e adesso noi ce lo andiamo a installare ecco qui andiamo avanti l'installazione ragazzi è semplice perché è un programmino free quindi facciamo avanti accettiamo i termini di licenza accettiamo questa è la directory dove lui lo installa facciamo avanti perfetto ok crea un desktop icon un'icona sul desktop e la lasciamo creare e a questo punto il nostro software è più o meno installato dico più o meno perché lo sta finendo eccolo qua benissimo lancia folder maker e gli diciamo fine ecco fatto questo è tutto quello che noi dobbiamo fare adesso lui ecco vabbè ci rimanda la urla ma noi l'abbiamo già visto prima la possiamo anche chiudere e queste sono le varie cartelle che lui a questo punto ci colora vedete io qui posso andare a scegliere una directory ok che ne so i documenti per esempio creo una nuova cartella eccola qui questa nuova cartella posso crearla posso scrivere prova eccola va bene posso selezionare la cartella prova eccola qua e dargli un'icona rossa e dire applica è tutto qui finito quindi a questo punto io a volendo posso anche mettere l'italiano ecco adesso forse così è meglio ok l'avevo già spinto applica mi sembra sì quindi a questo punto se io apro esplora risorse come ho fatto qui sotto eccolo e vado su documenti no non l'ha presa come non l'ho detto scusa ma forse devo fare applica così perché eccola lì non è che non l'ha presa era soltanto che la doveva leggere ecco qua vedete io ho la mia cartella prova se ne volessi un'altra cartella infatti mi sembrava stanno che non l'avesse presa un'altra cartella che si chiama prova 2 eccola qui va bene ci vado col tasto destro come vi ho detto qui abbiamo mark folder eccolo e io qui ho i vari colori ho i recenti temporane perché qui posso anche vedere dare le icone con le cartelle con le varie concine con le frecce ma andiamo a vedere i colori a questo punto gliela diamo verde diamo il tempo lui la va a leggere e a questo punto io ho la mia cartellina verde quindi che cosa che come o meglio scusate a che cosa serve serve proprio a questo cioè a permetterci di avere le cartelline colorate all'interno di una directory le possiamo colorare tutte o possiamo colorare quelle che ci servono quelle di cui abbiamo una necessità veloce insomma ecco quelle cartelle che vogliamo che ad occhio torniamo su documenti che ad occhio ci e così insomma ci portano la loro attenzione con un colore specifico niente questo era ragazzi un video veramente semplice e insomma soprattutto veloce ma proprio per farvi vedere questo software si installa con facilità io lo trovo eccezionale io lo utilizzo su alcuni computer ma fondamentalmente quelli dove ho molti folder e magari me li coloro magari quello con la musica generalmente lo faccio verde oppure magari quello con le immagini se ne ho diversi magari faccio azzurri e già per colore riesco a etichettare diversamente il contenuto già visivamente il contenuto di quella cartella quindi insomma dove c'è quel colore so che c'è la musica e a quel punto non mi posso sbagliare bene amici siamo arrivati alla fine se il video vi è piaciuto e pensate che questa piccola risorsa vi è comoda lasciatemi un bel like iscrivetevi al canale commentate se volete e noi ci rivediamo al nostro prossimo video